Ave legionari! In questo video vediamo la battaglia della Niene e anche la battaglia di Porta Collina. Cosa si tratta? Si tratta di una storia in cui i romani subiscono innanzitutto una grandissima sconfitta contro i galli di Brenno, ma poi si riorganizzeranno e otterranno delle grandissime rivincite e addirittura una grande vittoria con uno scontro, un duello epico che si svolge su un ponte e adesso vi racconterò tutti quanti i dettagli. Quindi andiamo alla scoperta di un periodo meraviglioso della storia romana in cui i romani si stanno imponendo e stanno combattendo contro tanti altri popoli italici fino a ottenere il predominio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora la storia deve cominciare dai galli senoni che inizialmente vivono nell'attuale Francia del Sud, ma poi migrano verso l'Italia e occupano dei territori che oggi corrispondono all'Emilia Romagna e alla zona nord delle Marche e la loro capitale era all'odierna Senigallia. Questa popolazione comincia ad un certo punto a invadere i territori altrui. Invade anche l'Etruria, che corrisponde oggi alla Toscana, e mette in pericolo la città di Chiusi, che era importantissima, uno dei centri abitati fondamentali per tutta quanta l'Etruria. Allora Chiusi decise di domandare aiuto ai Romani, con i quali aveva dei rapporti commerciali che si svolgevano da diversi decenni e avevano anche dei rapporti di reciproco aiuto. I Romani intervengono, però fanno un errore. I Romani sottovalutano fortemente il nemico gallico. Gli ambasciatori infatti incontrano i generali gallici, li trattano male, sono tracotanti, sono sicuri di vincere, e quindi subito si arriva ad una battaglia, la battaglia dell'Allia, in cui i Romani mandano belli tranquilli due legioni, che vengono però affrontate da un'orda barbarica, devastante, terrorizzante. I soldati si spaventano, non c'è quasi neanche combattimento e l'esercito romano viene completamente annientato. I soldati romani scappano, è una disfatta totale. E purtroppo la conseguenza di questa disfatta sarà addirittura il saccheggio della città di Roma. Il loro generale Brenno saccheggia infatti Roma per giorni e qui ci sono dei danni gravissimi, non solo uomini, donne che vengono stuprate, uomini che vengono uccisi, quindi una grande strage per i Romani, ma anche dei danni gravi alla città. In questo periodo si perde infatti l'archivio di Stato che conteneva delle informazioni importantissime su tutto il periodo monarchico, quindi è un danno devastante. E qui anche che Brenno dice la famosa frase ve victis, guai ai vinti, perché si rendeva conto che Roma era alla sua mercè. E però poi verrà liberata la città di Roma dal grande generale Furio Camillo. A un certo punto Roma però si riorganizza. In particolare rende il suo esercito molto più mobile, ma allo stesso tempo molto più compatto, quindi evolve enormemente e comincia, riprende un combattimento contro i Celti o i Galli, riprende tutta una serie di ostilità e arriva ad avere una serie graduale di rivincite che permette ai Romani di riconquistare terreno. Arriviamo quindi a una data. Siamo nel 361 avanti Cristo e ci troviamo nel bel mezzo dei combattimenti tra i Romani e i Galli. A un certo punto c'è la città di Roma e ci sono i Galli che si stazionano a solo 3 miglia dalla città. In mezzo c'è un ponte, il ponte sull'Aniene. I Romani, vedendo che un contingente di nemici si è accampato molto vicino alla città, ovviamente immediatamente interrompono tutte le operazioni e nominano un dittatore, Peno, il quale fa una leva straordinaria di giovani, mette insieme un grosso esercito e subito marcia contro il nemico Gallico che è a pochissima distanza dalla capitale. E quindi cosa succede? Succede che da una parte di questo ponte ci sono i Galli accampati, pronti al combattimento, sicuri di vincere. Dall'altra parte c'è l'esercito dei Romani che hanno veramente anche loro la piena volontà di annientare per sempre il nemico e in mezzo c'è il ponte sull'Aniene. Nessuno dei due, né i Galli né i Romani, vogliono distruggere il ponte perché sarebbe un segno di paura e quindi non ci pensano minimamente. Però allo stesso tempo nessuno dei due vuole fare la prima mossa. Ci sono delle piccole scaramucce, delle piccole schermaglie su questo ponte, però niente di risolutivo. Ad un certo punto un grandissimo, nel senso di valoroso ma anche nel senso fisico, un grande guerriero dei Galli lancia ufficialmente una sfida all'esercito romano. Cioè si avvicina, va sul ponte da solo e grida ai Romani questa frase Si faccia avanti a combattere il guerriero più forte che c'è adesso a Roma, così che l'esito del nostro duello stabilisca quale dei due popoli è superiore in guerra. Ora la sfida è stata lanciata. Tutti i Romani hanno paura perché questo è un gigante, tranne Tito Manlio, detto imperioso. Tito Manlio imperioso, che veniva da una grande famiglia aristocratica ed era imparentata con la Roma bene, diciamo, decide che sarà lui a sfidare l'avversario. Quindi si reca direttamente dal suo dittatore e dal suo generale e pronuncia delle parole di straordinario coraggio chiedendo di poter intervenire. Dice esattamente Senza un tuo ordine, comandante, non combatterei mai fuori dal mio posto, neppure se vedessi che la vittoria è sicura. Se tu me lo concedi, a quella bestia che ora fa tanto lo spavaldo davanti alle insegne nemiche, vorrei dare la prova di discendere da quella famiglia che cacciò giù dalla rupe tarpea le schiere dei galli. E la risposta di Peno è questa. Quindi, a questo punto, tutto è pronto per un grande duello che da solo deciderà le sorti della battaglia. Abbiamo l'avversario. L'avversario, questo immenso, questo grandissimo generale combattente dei galli, è adornato da un'armatura bellissima, da un mantello meraviglioso, da delle armi sfolgoranti. Ci sono alcune versioni che dicono che al contrario era completamente nudo, però la principale invece ci restituisce una persona, un guerriero, riccamente rafforzato da uno spadone enorme, da un grande scudo e anche da delle armature che sono bellissime, quindi sembra veramente un semidio ed è pronto per il combattimento. Dall'altro lato abbiamo Tito Manlio, che sceglie una strategia diversa. Essendo romano, quindi più basso, un po' più piccolo, più tarchiato, molto resistente, ma certamente più piccolo dell'avversario, prende un classico scudo romano e prende un gladio. C'è una spada più corta, una spada molto più piccola rispetto a quella dell'avversario, che secondo le sue previsioni gli permetterà di infliggere però dei colpi più rapidi. E quindi tutto quanto è pronto per questo immenso duello. Sono soli sul ponte il guerriero dei Galli e Tito Manlio, tutti quanti stanno assolutamente in silenzio, nessuno dice una parola, tutti stanno ascoltando e guardando quello che accade. Sul ponte solamente i due combattenti cominciano il combattimento. Il primo colpo viene sferrato da questo enorme guerriero dei Galli. Lui solleva la sua grandissima spada e dà un enorme fendente, quindi dall'alto verso il basso, dà un enorme fendente contro l'avversario. Però Tito riesce a schivare il colpo, quindi va a vuoto e cosa fa? Prende il suo scudo, colpisce lo scudo dell'avversario in basso e riesce praticamente a infilarsi sotto la parte del torace del suo nemico e colpisce due volte, prima alla zona del ventre e poi alla zona dell'inguine. Riesce a dare due colpi veloci e in questo modo Tito, con una mossa fulminea, riesce a far stramazzare l'avversario che cade per terra sanguinante e in pochi minuti, dissanguato, muore. Decide di non infierire sul corpo dell'avversario, si limita a levargli una collana, che aveva al collo bellissima, ancora insanguinata, e a mettersela come segno della vittoria. È come se avesse rubato un trofeo al nemico battuto. In questo modo i Galli capiscono che la vittoria è dei Romani e nessuno si permette più di controbattere l'esercito romano. I Galli quindi prendono tutte le loro cose e se ne vanno e si allontanano da Roma, che è salva grazie a questo grandissimo duello vinto da Tito Maglio. Però la storia non è ancora finita. I Galli si allontanano perché hanno perso questo grandissimo duello e però si avvicinano alla città di Tibur, dove vivevano i Tiburtini. I Tiburtini danno aiuto ai Galli, gli danno conforto, gli danno strumenti, rifornimenti, si alleano con loro, gli aprono le porte e a questo punto i Galli, dopo aver avuto l'aiuto dei Tiburtini, si possono spostare più a sud, verso la Campania, dove ci sono degli altri saccheggi continui. A questo punto l'esercito romano cosa fa? Ovviamente i consoli in carica sono costretti a inseguire i Galli e a cercare di fermare le loro mosse. Però, e qui arriviamo alla battaglia di Porta Collina, a questo punto la città di Tibur deve essere punita per l'aiuto che ha dato ai Galli. E quindi cosa accade? Il dittatore, questa volta si chiama Quinto Servilio Ahala, ha in mano l'esercito romano che deve vendicare e deve punire la città di Tibur. E dall'altra parte ci troviamo i Tiburtini con i Galli alleati che di nuovo si scontrano contro i Romani. Questa battaglia, attenzione, si svolge nei pressi di Porta Collina, proprio quella porta che circa vent'anni prima era stata la porta dove era passato Brenno, che poi aveva distrutto e saccheggiato Roma per tre giorni. Quindi aveva un elevatissimo valore simbolico, proprio in quel punto la rivincita dei Romani. Quindi da una parte abbiamo il dittatore Ahala con i Romani, dall'altra i Celti, i Tiburtini e comincia una lotta, un combattimento ferocissimo. Noi non sappiamo i dettagli tattici di questo combattimento, però sappiamo, le fonti ci dicono una cosa molto importante. Siccome i Romani combattevano vicino alle mura di Roma, c'erano le loro famiglie a guardarli. Quindi loro davanti alle madri, alle mogli, ai figli, alle figlie, miei nipoti, anche i bambini, combattono con loro come spettatori. Questo gli dà una forza grandissima, gli dà una carica psicologica, vogliono salvare le loro famiglie e quindi in una battaglia estremamente sanguinosa riescono evidentemente a vincere l'avversario. Anche perché c'è anche da dire che avere le mura della tua città vicino innanzitutto permette agli uomini di essere ricambiati più velocemente e poi sai che se dovessi perdere poi hai un luogo sicuro. Quindi i Romani avevano veramente tanti vantaggi e in una serie di scontri sanguinosissimi riescono nuovamente a vincere i Tiburtini e i Galli alleati insieme. Tutti questi vengono sconfitti dall'esercito romano che con estrema violenza riesce ad avere ragione e a vincere ancora una volta. A questo punto i Galli stanno scappando. Stanno scappando e cercano di rifugiarsi nella città di Tibur però vengono intercettati da un altro generale Balbo e quindi cosa accade? Che i Tiburtini vedendo che i Galli erano in difficoltà decidono anche loro di uscire dalla città e mano a mano danno aiuto ai loro alleati e allora però di nuovo i Galli e i Tiburtini insieme vengono ulteriormente sconfitti da Balbo e da Ahala che insieme avevano riunito le loro forze per un grande scontro finale. Purtroppo non sappiamo i dettagli, ripeto, non sappiamo i dettagli tattici però sappiamo che fu uno scontro estremamente sanguinoso ma alla fine i Romani che ormai non avevano nient'altro che la vittoria nella mente riuscirono ad avere la meglio e ottenere una grandissima serie di successi contro i nemici. Cosa accade? Le conseguenze finali? Diciamo che la storia degli scontri tra Romani e Galli è molto più ampia e lunga e ne dedicheremo altri video. Diciamo che però questo è il nucleo, sono le battaglie più importanti che hanno permesso a Roma di avere una rivincita sui Galli, allontanarli definitivamente dal territorio del centro Italia ed espandere sempre di più la loro influenza. Saranno queste battaglie il succo, il centro e il fulcro del loro inarrestabile dominio sull'Italia. Spero di avervi trasmesso un po' di forza che è derivata da questa storia. Vi invito a iscrivervi al canale perché altrimenti ci saranno Brenno, i Galli, i Tiburtini, ogni serie di cose che verranno a casa vostra per cercare di vendicarvi dei Romani, quindi sarà un macello assurdo. Iscrivetevi al canale per non essere invasi dai nemici di Roma. Un caro saluto e al prossimo grande video.